Amici dello sportello del cittadino, eccoci a Taranto, in via Pupino, quindi nel pieno centro cittadino, praticamente a pochi metri dall'entrata dell'ospedale della Marina Militare, nonché della scuola dell'Istituto Comprensivo 25 Luglio Bettulo. Ma vedete, noi stiamo registrando, sono le 5-20 del pomeriggio, uno potrebbe pensare è una zona tranquilla, veramente non si sente volare mosca per così dire, ma quando inizia, quando arrivano le ore serali, dalle 7, le 8, le 9 di sera in poi, anche di più, qui si scatena davvero una situazione di invivibilità urbana. Ragazzi, dovremmo dire ragazzacci, che bivaccano, che oltre a fare rumore, fino alle 2-3 di notte, ma trasformano l'area in una zona di bivacco, perché qui tra panini, cartacce e soprattutto bottiglie, lattine, e davvero questa situazione configura un quadro di abbandono, di degrado, di mancanza di educazione e di rispetto verso il prossimo, una mancanza assoluta di educazione civica. Parliamo di ragazzi, tutto sommato, ragazzi che forse non hanno neanche 18 anni, o al massimo una ventina d'anni, non di più, ma come si vede dalle foto, davvero traslasciano questa zona in una situazione di assoluta decozione, ripeto, attraverso i vari rifiuti che con molta maleducazione lasciano sugli scalini della scuola, o addirittura non si degnano di conferire i rifiuti nel cassonetto, ma li buttano così tranquillamente per terra. Vi posso assicurare che è davvero triste vedere che durante il giorno il servizio di nettezza urbana interviene e ripulisce la zona, ma puntualmente, ogni sera, si verifica lo stesso porcile. Questo dal punto di vista dell'igiene urbana. Ma poi ci sono problemi di rumori, di urla, di grida che si sentono in piena notte. Parliamo dell'una, le due di notte, qui c'è gente, ci sono anziani, sono persone che la mattina giustamente devono andare a lavorare e non possono vivere così in una realtà di bivacco continuo tra ragazzi che ridono, scherzano, urlano, perché non si tratta di parlare a voce alta, ma di urla, giocano a pallone. E' come se nulla fosse, qui praticamente le macchine che sono parcheggiate vengono tranquillamente prese a pallonate. Se poi si rompe un vetro, si rompe uno specchietto e chi se ne frega. I cittadini della zona sono esasperati, hanno chiamato decine, 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 fino ad arrivare a centinaia di volte le forze dell'ordine. dicono sì, vedremo di intervenire, magari però ci sono delle priorità per cui in questa zona non interviene nessuno. Allora, io mi rivolgo alle forze dell'ordine, per cortesia intervenite. Uno, per far sì che la gente che abita qui possa vivere in condizioni decenti, accettabili. Due, perché questi ragazzi devono essere rieducati, rieducati, che significa educati di nuovo, ammesso che abbiano mai ricevuto una educazione. Quindi o educati ex novo, visto che non hanno mai ricevuto educazione, o rieducati. Parliamo di formare delle nuove coscienze, coscienze che si spera possano essere quanto più vicine al rispetto dell'educazione civica e non alla strafottenza, ad assumere atteggiamenti bestiali. Non è un problema da poco, perché poi, vedete, quando una generazione cresce in questo modo determina tanti disagi sociali fino ad arrivare al teppismo vero e proprio. Poi non lamentiamoci che i carceri minorili presentino situazioni di forte impatto umano, diciamo così. Bisogna, come dire, estirpare le radici malate subito. Quindi intervenite e sanzioniamo questi delinquentelli, perché così vanno definiti. Alla prossima!